Quando già credevo da esserci riuscito, soccato no. La stagione sciocca un volare doppio senso, che ha armato non è come io la penso, ma il sentimento era già un po' troppo tenso, e sono stato... Chissà, chissà chi sei, chissà che sarai, chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo. Comunque adesso ho un po' paura, ora che questa avventura sta diventando una storia vera, spero tanto tu sia sincera. Sino che contiene tante case, alcune vene, alcune gialle, alcune rosse, dovrendo scegliere e studiare le mie noce, sono all'impasse.